Saluti a tutti da Exasystem. Oggi 31 dicembre 2022 dalla spiaggia Lungomare Nord di Termoli. E che ve lo dico a fare? E' inutile che ve lo dico che fa caldo e c'è chi ha pensato di farsi il bagno ma che vi devo dire? Buona fine e buon principio.